E lo avete sentito, l'abbiamo messo nel sommario anche noi, in apertura. Papa Francesco ha annunciato oggi nella Basilica di San Pietro la celebrazione di un anno santo, un anno santo straordinario. Questo giubileo della misericordia avrà inizio l'8 dicembre con l'apertura della Porta Santa in San Pietro nella solennità dell'Immacolata Concezione 2015 e si concluderà il 20 novembre del 2016 con la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. E sempre oggi ha avuto inizio la 24 Ore per il Signore, una giornata dedicata al Sacramento della Riconciliazione che l'anno scorso ha ottenuto un grande successo. A Fano resterà aperta tutta la notte fino domani alle 18 la Basilica di San Paterniano dove c'è per noi collegato in diretta Marco Gasparini della redazione della Web TV della Diocesi che vedo con un ospite. Buonasera Marco, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo qui in diretta dalla Basilica di San Paterniano in Fano dove è iniziata alle ore 18 questa grande iniziativa delle 24 Ore per il Signore con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Armando Trasarti e a seguire la Via Crucis e da oggi fino a domani alle 18 come giustamente dicevi tu in apertura le chiese della Diocesi e in particolare questa chiesa sarà aperta per coloro che vorranno accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Ecco un'iniziativa questa che il Papa Francesco ha già lanciato nel scorso anno che ha voluto riprendere anche quest'anno. Siamo in compagnia di Padre Marzio che salutiamo a cui chiediamo subito con quale atteggiamento diciamo è bene vivere questa giornata del perdono e in particolare questa Quaresima. Pace e bene a tutti. L'atteggiamento con cui abbiamo accolto e dobbiamo vivere con queste 24 Ore per il Signore è un atteggiamento profondo che nasce dal cuore è un sentimento di grande gioia perché quando si parla di misericordia davvero il cuore si allarga misericordia vuol dire il cuore dato ai miseri noi ci riconosciamo miseri il Padre Celeste ci apre il suo cuore ci dona sempre il figlio suo Gesù che è per noi misericordia. E allora vogliamo vivere queste 24 Ore proprio con questo senso di gratitudine di esultanza interiore francescanamente potrei dire di letizia del cuore e proponiamo a tutti i fratelli e le sorelle di fare questa esperienza. Ringraziamo anche la Diocesi che ha scelto la nostra Chiesa che poi è il centro spirituale di tutta la città di Fano proprio perché diventi accogliente diventi propositiva diventi proprio luogo dove ognuno con semplicità e con tanta umiltà ecco possa sperimentare la misericordia del Signore. Ecco Padre Marzio come hai appreso questa notizia che il Papa così ha annunciato proprio da pochissimo di questo anno santo dedicato alla Santa Misericordia? È stata una notizia proprio fulminea è arrivata così inaspettata ma proprio perché era inaspettata come ogni regalo, ogni dono inaspettato ci ha creato tanta gioia. Ecco il prossimo anno il Papa vuole che sia vissuto proprio come anno della misericordia inizierà l'8 di dicembre del 2015 già una data significativa perché è il giorno in cui tutta la Chiesa guarda a Maria la tutta bella, la tutta santa la tutta piena di grazia con lei che ha dato al mondo la misericordia perché Maria non è soltanto madre di misericordia ma è madre della misericordia donandoci Gesù Ecco un'ultima domanda Padre Marzio il Papa nel messaggio per la Quaresima ha parlato di questa indifferenza questa tentazione del rimanere indifferente nei confronti degli altri nei confronti di Dio ecco questa tentazione è così forte anche qui anche da noi anche nelle nostre piccole comunità Io direi che è quasi un fatto culturale l'indifferenza ma se si è indifferente a Dio indifferente verso gli altri probabilmente perché siamo indifferenti nei confronti di noi stessi se avessimo più cura di noi più attenzione nei nostri confronti davvero scopriremo qualcosa di altro da noi e allora è la via da percorrere per arrivare a Dio ma è anche la strada che ci porta ad allacciare rapporti con gli altri con una relazione bella che diventa fraternità e diventa davvero la celebrazione della grande misericordia Grazie Padre Marzio allora davvero ricordiamo nuovamente che da oggi fino a domani alle ore 18 potete trovare qui tanti sacerdoti che si alterneranno diciamo 24 ore su 24 proprio il caso di dirlo per potersi accostare al sacramento della riconciliazione e ricevere il perdono Bene grazie allora Marco Gasparini al suo ospite andiamo avanti con il giornale al via la campagna operazione scuole pulite oggi sono stati coinvolti gli alunni, i genitori e gli insegnanti della scuola primaria Decio Raggi grazie a tutti i genitori grazie a tutti i genitori